Un marito e dei figli che dipendono dal mio salario. Non vi siete preoccupata quando avete deciso di spiarci? Perché la signora Francisca mi pagava bene. Da quando mio marito ha subito quell'incidente non guadagna più nulla e i miei figli hanno sempre più necessità. Come potevo rifiutare? Quindi confessate. È Francisca Montenegro che dirige i vostri movimenti alla mia larga.